buongiorno oggi mi trovo a magliaso in una zona a traffico limitato in cui è piacevole passeggiare a pochi passi dal lago e in una via dalle case meravigliose ogni casa in questa via sembra una piccola opera di architettura e si sposano perfettamente una con l'altra tra tutte queste abitazioni belle esteticamente non ho ancora trovato quella che sia la soluzione al bisogno delle persone che amano la vita immagina di trovare finalmente una casa che respiri con te che protegga la tua famiglia e sia disegnata tenendo conto dei principi naturali a cui l'uomo corrisponde per vivere in salute e serenità proprio su questo terreno verranno costruite tre villette a schiera proviamo a visualizzarne una attraverso le mie parole percorriamo il vialetto che ci porta all'ingresso della casa dove una siepe divide il vostro giardino da quello del vicino varchiamo la porta d'entrata e ci troviamo nell'altro d'ingresso sulla sinistra ci sono dei comodi armadia muro e sulla destra il bagno di servizio completo di lavabo e vici ci accoglie un accogliente soggiorno disegnato per essere vissuto al miglio la cucina è aperta al centro dell'open space potrai arredare la tua sala da pranzo luogo di ricordi per pranze e cene memorabili una lampada olive illuminerà le tue serate un esagono di lichene stabilizzato controllerà la salubrità dell'aria che respiri è fonossorbente la sua bellezza e il suo verde brillante corrisponderà alla migliore condizione dell'ambiente in cui vivi da qui potrai accedere alla terrazza coperta con un pavimento in grass ceramico tipo legno e al giardino privato potrai decidere se farlo fiorire in tutte le stagioni lasciarlo essenziale o se il prato sarà protagonista da qui puoi accedere all'altro lato del tuo giardino privato percorriamo la scala in xlam per accedere al piano superiore in cui si sviluppa la zona notte un disimpegno anticipa le stanze sulla destra il secondo bagno è completo di vasca da bagno bidet water e doppio lavabo con specchiera la prima camera è perfetta per un figlio le pareti della camera sono rivestite in legno naturale di cirmolo un'essenza delle proprietà benefiche il cui profumo aiuta le vie respiratorie e stimola la mente regolando i battiti cardiaci la seconda camera potrai utilizzarla come studio se vuoi lavorare da casa o come seconda camera singola l'ultima è la camera padronale con un bagno privato in camera è la più spaziosa e il bagno è completo di box doccia bidet water e lavabo con mobile e specchio dalle camere potrai accedere al balcone che si affaccia sul giardino nella zona notte scommetto che anche tu vorresti il parquet di legno alle stoni lunghi morbido da far diventare leggeri i tuoi passi gli infissi in pvc i vetri tripli e le tapparelle elettriche la casa possiede un sistema di ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore per mantenere l'aria sana e in movimento ed è certificata minergy il riscaldamento è radiante a soffitto un sistema di deumidificazione centralizzato ti garantirà una perfetta percentuale di umidità dell'aria e la manterrà nelle condizioni migliori l'aria degli interni verrà sanificata e controllata grazie ad un purificatore cleiri il sistema che utilizza la tecnologia combinata al naturale filtraggio delle piante cleiri sarà collegato al tuo smartphone e mostrerà in tempo reale le condizioni dell'aria nei tuoi interni la sul della casa è di 145 metri quadri il giardino è completo e piantumato e ha una superficie di 150 metri quadri l'impianto fotovoltaico darà energia alla tua casa riducendo l'impatto sull'ambiente e sfruttando il sole che contraddistingue questo luogo c'è una cantina fuori terra e ci sono due posteggi esterni un deposito per le biciclette ad uso comune ed un giardino con un piccolo parco giochi per i bambini che vivono qui il prezzo di questa casa è come quello di una casa tradizionale ed include anche i posteggi questa casa deve ancora nascere e sei ancora in tempo per scegliere i dettagli per maggiori informazioni chiama velocemente questo numero 091 921 24 e 28 e chiedi delle tre villette a schiera finché saranno disponibile sarò felice di presentarti l'occasione di acquistare la tua casa sana bella ed ecologica in un posto unico e magico chiamaci ancora grazie divertì iscriviti al canale